Film horror realizzato con lo stile fan footage davvero notevole. Pensate che è diretto da Patrick Bryce che l'ho anche cosceneggiato insieme a Mark Duplass e, come se non bastasse, i due sono pure gli attori protagonisti. Sapendo soltanto queste informazioni penserete di certo che la vicenda parte in qualche modo svantaggiata, essendo indipendente ed avendo un budget bassissimo, ma ebbene, non è così. Un budget alto non è sempre sinonimo di qualità e questo film ne è un chiaro esempio. In questo caso, infatti, è proprio la realizzazione materiale a far funzionare e a rendere credibile il tutto. Due soli attori ed una videocamera, in un susseguirsi di situazioni che non annoiano e che fanno crescere nel giusto modo la vicenda, senza correre troppo e al tempo stesso senza tirarla per le lunghe. Un altro punto di forza è infatti la sola durata di 77 minuti. Terrorizza, disturba e soprattutto fa riflettere su temi attuali non, inserendo in modo intelligente l'uso di internet, senza però puntargli il dito contro. Vi è la tensione, certo, ma in questo sono fondamentali anche i colpi di scena, che spiazzano letteralmente lasciando senza parole. Attenzione, però, vi da dire che l'inquietudine che trasmette non deriva da scene violente, bensì da un vero e proprio crescendo di situazioni disturbanti. Mark Duplass è perfetto nella parte, è difatti il punto forte della pellicola, mostrando una delle migliori prove attoriali che io abbia mai visto in un film di questo genere, il che non è da poco, credetemi. Inoltre ho apprezzato anche molto l'ambientazione, che può sembrare poco in un film del genere, ma vuol dire moltissimo, essendo ambientato quasi unicamente in un unico luogo, per quanto grande sia. Un piccolo dettaglio che può far storcere il naso a molti, in Italia non è arrivato doppiato, ma è trovabile su Netflix in lingua originale e con i sottotitoli. Io l'ho trovato invece un punto forte, potendo godere appieno dell'interpretazione originale. Ve lo consiglio se volete passare una serata diversa dal solito, ma soprattutto se volete godere di una visione inquietante e disturbante, quanto basta da tenervi svegli la notte a rifletterci. E voi, avete visto questo film? Se sì, scrivetemelo qui sotto nei commenti, raccontandomi le vostre personali opinioni. Qui, Viral, chiudo.